da settembre ci si vaccinerà nell'auditorium di marche multi servizi rifiuti in centro cassonetti intelligenti sostituiscono il porta porti marotta carabiniere salva anziano da potenziale suicidio dal campo quadro una spinta in più al turismo di gabice luca barbarossa sarà il sindaco del paese dei balocchi di fano buonasera amiche buonasera amiche buonasera amiche amici di rossini tv telegiornale di giovedì 4 agosto che apriamo occupandoci di sanità come vi abbiamo anticipato ieri marche multi servizi ha dato la disponibilità dei suoi locali di via toscana per realizzare un nuovo punto vaccinale nella città di pesaro dopo la chiusura del lab dell'ex ristò avvenuta oltre un mese fa vediamo i dettagli di questa novità nel nostro primo servizio dal 13 luglio scorso la campagna di vaccinazione anticovid allargato nelle marche la possibilità della quarta dose agli over 60 fasce anagrafiche che nell'ultimo mese per quel che riguarda la città di pesaro hanno però dovuto migrare verso fano e urbino visto che da fine giugno l'ex ristò ha cessato le sue funzioni da ab vaccinale con la proprietà della struttura rientrata come d'accordi in possesso dei locali interni al rossini center chi vuole vaccinarsi a pesaro tuttora può farlo soltanto in farmacia oppure al punto vaccinale di muraglia se soggetto ritenuto appartenente alle cosiddette categorie fragili dopo diverse settimane di ricerca è stata però la disponibilità di marche multi servizi a risolvere l'individuazione di un nuovo punto vaccinale l'azienda si è infatti accordata con asur e area vasta 1 per mettere a disposizione delle pratiche di vaccinazione l'auditorium di marche multi servizi interno alla struttura di via toscana sono in corso le ultime verifiche sull'idoneità dei locali alla pratica sanitaria ma salvo contro ordini dal primo settembre medici infermieri e staff della protezione civile si trasferiranno negli spazi che abitualmente marche multi servizi utilizza per convegni o conferenze stampa spazi più piccoli rispetto all'ex resto ma funzionali alla domanda attuale delle vaccinazioni per quel che riguarda i parcheggi c'è la possibilità di sosta libera lungo via toscana l'accordo fra asur e marche multi servizi prevede un comodato d'uso gratuito fino alla primavera del 2023 da ottobre per i residenti del centro storico ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a illustrarcela e l'assessore all'operatività Enzo Belloni in questa intervista siamo con l'assessore Enzo Belloni da ottobre stop ai bidoncini porta a porta e vengono introdotti questi cassonetti intelligenti cosa cambierà per i cittadini del centro storico allora il cambiamento sarà un pezzo alla volta abbiamo assieme a marche multi servizi deciso di dividere il centro storico in quattro zone quindi la sperimentazione per i primi mesi partirà in una zona della città in un quadrante che indicativamente va da via Branca a via Gramsci l'idea è quella di piazzare sei contenitori di rifiuti che sono quelli che sono stati utilizzati nella città di Mantua per capirci e questo cosa ci porterà? Ci porterà a non avere più in strada i sacchetti con la plastica, i sacchetti con l'indifferenziato e i sacchetti con l'umido quindi in qualche modo avremmo una città un pochino più ordinata è chiaro si tratta di sperimentazione dovremmo valutare quello che sarà il comportamento dei cittadini perché poi alla fine è sempre il singolo cittadino che fa la differenza quello che ci sarà oltre ai contenitori sarà anche una videosorveglianza abbiamo previsto nelle zone di conferimento i cassonetti non saranno accessibili da tutti quindi l'utente che abita in centro avrà una tessera e che adesso andremo a capire se utilizzare la tessera sanitaria o un altro strumento che gli permetterà di aprire il contenitore e di lasciare il rifiuto questa operazione con i nuovi cassonetti in qualche modo costringerà l'azienda a Marche Multiservizi a un giro più frequente quindi non ci saranno raccolte giornaliene ma nel corso della giornata penso che gli operatori dovranno passare almeno due o tre volte chi deve conferire il rifiuto dovrà fare qualche metro in più per lasciarlo non lo lascerà sotto casa ma dovrà fare una distanza massima abbiamo stimato di 170 metri i contro quali sono? Uno dei contro è che andremo a perdere alcuni posti auto ovviamente perché nel momento in cui mettiamo i cassonetti alcuni posti auto verranno in qualche modo occupati e impegnati una spinta soprattutto forte che arriva dal sindaco che ha già un po' di tempo che spinge per arrivare a questo tipo di raccolte è chiaro che anche i cittadini specialmente i turisti anche se i giri sono frequenti durante la sera sono un po' in tutte le vie del centro storico è chiaro che non è bello vedere i sacchetti fuori del portone qual è il punto specifico in cui verranno posizionati questi cassonetti? Ma ancora lo stiamo discutendo incontreremo il consiglio di quartiere centro illustreremo quelle che sono le proposte che amministrazione comunale e azienda, marche e multiservizi hanno fatto e se ci sarà bisogno apporteremo alcuni piccoli aggiustamenti È un investimento che quale costo comporta? È un investimento importante la stima è il costo unitario di circa 50.000 euro ogni cassonetto quindi questa prima sperimentazione ci porterà l'azienda ad un costo attorno superiore ai 300.000 euro il costo ipotizzato per sviluppare questo tipo di raccolta in centro storico è attorno ai 1.200.000 euro E ora la cronaca. Alle 17 di ieri una donna tramite il 112 ha comunicato alla centrale dei carabinieri di Fano che l'anziano padre, vedovo da un anno, l'aveva contattata riferendogli di volerla fare finita gettandosi sotto un treno L'operatore in turno della centrale riusciva a mettersi in contatto telefonico con l'anziano che in quel momento era a bordo della sua auto nei pressi della stazione ferroviaria di Marotta L'operatore riusciva ad accertare il modello del veicolo e a comunicarlo tempestivamente alle pattuglie di Marotta Durante la lunga conversazione il carabiniere è riuscito a rassicurare e confortare l'anziano riuscendo a convincerlo a dirigersi verso casa dove erano già presenti altri carabinieri e i suoi familiari Proseguono gli interventi di contenimento e abbattimento dei cinghiali nei pressi di Urbino 15 quelli registrati solamente nel mese di luglio Una serie di operazioni sollecitate dall'allarme tra i cittadini generato dall'avvistamento sempre più frequente di cinghiali anche in zone abitate Gli abbattimenti oltre a una riduzione diretta del numero degli ungulati comportano un forte elemento di disturbo per i cinghiali che contribuisce ad allontanarli verso zone più lontane dai centri abitati Gli interventi si inseriscono nell'ambito del protocollo d'intesa siglato a giugno 2021 fra le polizie provinciali il comando regionale dei carabinieri forestali la regione, gli agricoltori e le associazioni dei comuni E ora ci spostiamo a Gabicce Mare dove oggi c'è stato il taglio del nastro al riqualificato parcheggio Campo Quadro che diventa così un valore aggiunto alla mobilità e al turismo del comune Ci troviamo a Gabicce Mare in un'area delle comune alle porte della statale area in cui tanti anni fa sorgevano degli orti poi trasferiti in altro luogo del territorio e da qualche anno è arrivato un parcheggio un parcheggio inizialmente di proprietà comunale poi entrato nella disponibilità del gruppo GAM gruppo albergatori multiservizi di Gabicce che ci ha messo mano concretamente con lavori importanti che oggi portano alla riqualificazione e all'inaugurazione di un parcheggio moderno, automatizzato e servito da navette con 800 posti auto a servizio della mobilità e del turismo di Gabicce Mare Inauguriamo un parcheggio con 800 posti auto che abbiamo sistemato all'avanguardia perché oltre che aver asfaltato tutte le vie, le strade aver sistemato tutti i parcheggi al coperto li abbiamo messi in ordine alfabetico per trovarli meglio ma soprattutto abbiamo fatto un ingresso automatizzato che rende un fiore all'occhiello perché non esiste sulla costa Adriatico un parcheggio automatizzato come il nostro perché abbiamo inserito il lettore targhe il lettore targhe è uno che prende anche il biglietto che non ha la tessera, si incrocia con il numero del biglietto e fa da antifurto quindi non si può nemmeno portare via una macchina poi abbiamo messo il lettore automatico cioè cosa vuol dire? che le nostre schede sono come il telepass in autostrada uno arriva, la sbarra si alza automaticamente e va a prendere il suo posto numerato perché oltre che il numero degli alberghi c'è ogni posto al suo numero quindi tutto questo ha portato sicuramente per la città di Gabicce un fiore all'occhiello perché che mancava? erano i parcheggi e a questa domanda noi abbiamo direi proprio completato l'opera secondo il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi questo può essere un primo importante passo verso altri progetti urbanistici in questa zona e nei territori limitrofi di Gabicce Mare presto ci auguriamo che possa essere presentato un progetto per riqualificare ancora di più quest'area importante è stato oggetto anche di cessione da parte del comune qualche anno fa ma in vista proprio di questa riqualificazione che sicuramente il privato può fare meglio che il pubblico in alcuni casi come questi andremo a sviluppare, partirà subito dopo l'estate dal ciclo pedonale lungo il tavolo quindi andrà a collegare la parte del quartiere di Ponte Tavolo al mare tutto in sicurezza lungo il tavolo è un progetto importante che è stato appaltato la ditta appaltatrice inizierà appunto i lavori a fine estate e durerà per qualche mese quindi per marzo prossimo anno inaugureremo anche questo importante tratto di collegarsi e collegare al mare in sicurezza ma anche arrivando da qui in bicicletta si può accedere a questa pista ciclabile e quindi in bicicletta raggiungere il mare presenta l'inaugurazione a Gabice Mare anche l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli che ha sottolineato l'importanza di questa sfruttura e quanto la regione sta insistendo per i collegamenti soprattutto con l'area del San Bartolo a fianco agli investimenti che privati o amministrazioni locali dedicano al territorio e alle infrastrutture si affaccia anche alla regione con importanti investimenti su Gabice e su tutte le marche stiamo pensando a bandi per i percorsi verticali quindi per i movimenti e anche per quelle persone che sono limitate nel muoversi anche in città turistiche così come stiamo pensando alla valorizzazione del San Bartolo dove l'assessorato alle infrastrutture ha già stanziato oltre mezzo milione di euro per collegare il centro di Gabice con il San Bartolo tramite percorsi pedonali e ciclabili a questo si aggiunga la necessità di un collegamento di Gabice e di San Bartolo con la ciclovia adriatica sulla quale abbiamo investito e stiamo investendo 27 milioni di euro per collegare Gabice e il San Bartolo con Ancona e il Monte Conero L'immagine che vi mostriamo ora si riferisce a un imbrattamento che ha deturpato un'installazione molto particolare come quella dei fogli fossili in eterna memoria della Shoah che da anni sono incastonati nel marciapiede di Piazza del Popolo ad angolo con Via Rossini di fatto di fronte al Palazzo del Comune Comune che oggi si è fatto carico dell'immediata pulizia condannando il gesto da sabato 6 agosto le nuove carrozze bici di Trenitalia saranno in servizio anche sulla tratta del nord delle Marche lungo la linea Ancona-Rimini andranno ad aggiungersi a quelle entrate in servizio il 27 luglio Francone Fabriano e Trancone San Benedetto del Tronto e saliranno così a 12 treni giornalieri tutto bici che copreranno l'intera rete regionale Gli amanti del verde non potranno più improvvisarsi giardinieri per lavorare occorrerà dimostrare di possedere un'adeguata esperienza sul campo oppure frequentare e conseguire con successo un corso di qualifica professionale la CNA di Pesaro Urbino in collaborazione con l'Istituto Agrario Cecchi ha organizzato a tal proposito un corso di abilitazione professionale da 180 ore rivolto alle persone che non possiedono un titolo di studio in discipline agrarie e paesaggistiche e che intendono avviare una nuova impresa di manutenzione del verde il corso si terrà presso l'azienda agraria Cecchi Ed ora occupiamoci di appuntamenti fra musica e teatro domani 5 agosto, ultima tappa di tre giorni nel comune di Pesaro con il festival Alte Marche nella splendida oasi Oikos sul San Bartolo si esibirà il trio di Damir Imamovic una delle più rappresentative voci di Sarajevo sempre domani nuovo appuntamento per la rassegna Miral Teatro d'Estate che porterà la scoperta del secondo libro delle Neide con la caduta di Troia interpretata dalla voce magnetica inconfondibile del popolare attore Massimo Popolizio nell'anfiteatro del parco Miralfiore di Pesaro sarà sviluppato il tema dell'inganno quello dell'immenso cavallo, dono dei greci, trasportato nelle mura di Troia determinandone la fine e la rocca di Gradara per tre giorni diventerà Magic Castle dal 7 al 9 agosto creature straordinarie torneranno a popolare il borgo storico come ci spiega il sindaco Filippo Gasperi quest'anno finalmente dopo due anni di pandemia e di restrizione di piccolo Magic come la parloca l'aveva chiamato torna il grande Magic Castle come nel 2019, l'ultima edizione full con un tema incredibile quest'anno parliamo di invasion, di invasioni ma di bellezza, di fantasia e di divertimento con questi mega insetti, mega animali che invaderanno letteralmente il borgo di Gradara oltre ai draghi che saranno quattro draghi quest'anno dall'Olanda come di consueto avremo il gigantesco ipopotamo di 6 metri e ha tanti altri grandi animali e insetti che però non vi svelo perché dovete venire a vedere a Gradara sarà un'edizione finalmente che ritorna grande e in completa espansione come è sempre stato e con ancora più spettacoli per tutti, dai bambini fino agli adulti e un'accoglienza davvero a braccio aperto per ritrovare una normalità che è davvero stata tanto agognata e finalmente quest'estate potremo ritrovarla quindi 7, 8, 9 agosto, grazie alla prologo di Gradara vi aspettiamo al Magic Castle edizione 2022 sarà il cantante e conduttore radiofonico Luca Barbarossa a indossare la simbolica fascia di sindaco del Paese dei Balocchi l'evento fanese dedicato ai più piccoli in scena dal 18 al 21 agosto l'atteso ritorno in presenza sarà caratterizzato da un ricco programma che vi illustriamo nel servizio di Simone Celli il tempo è uno sconosciuto che passa e che va oppure un compagno di viaggio è questo il grande interrogativo che si pone quest'anno il Paese dei Balocchi una festa lunga 4 giorni dedicata ai più piccoli ma che da sempre pone l'attenzione su temi quanto mai cruciali quello di quest'anno è appunto il tempo il senso del suo inesorabile trascorrere sarà il fil rouge del ricco programma preparato per il grande ritorno in presenza della manifestazione in scena dal 18 al 21 agosto in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano il tempo che qualcuno ci sfila dalle tasche non sappiamo come e viviamo di preoccupazioni e no di occupazioni e quindi molto spesso ci scordiamo che il tempo passa e va il tema di quest'anno è fantastico e al di là delle lucubrazioni filosofiche perché veramente anche seguendo gli impulsi tecnologici il tempo si è sempre più ridotto abbiamo sempre meno tempo per cosa meno tempo? meno tempo per essere felici meno tempo per riflettere meno tempo per guardare una giornata di sole un filo d'erbo o quanto altro questa non è poesia, è vita, è qualità della vita quindi il Paese dei Balocchi ancora una volta secondo me trova e fa centro con un argomento potentissimo che riguarda ognuno di noi grandi suggestioni che come sempre verranno declinate nelle mille forme del gioco spettacoli, incontri, laboratori e allestimenti creati per l'occasione incarneranno valori pesanti sì ma espressi con grande leggerezza proprio come in una favola il piatto forte come sempre saranno gli ospiti beh sicuramente comincerei dal sindaco che è un sindaco d'eccezione, Luca Barbarossa chiaramente siamo molto contenti di portarlo e grazie anche alle tratture di Tony Bungaro e poi il giorno dopo avremo Max Paiella altro personaggio di Radio 2 che ci verrà a raccontare una bella storia e poi tutti i quattro giorni avremo laboratori, spettacoli, musica e tutto quello che ormai conoscete del Paese dei Balocchi però con queste due grandi punte di diamante due le principali novità il parco di mangiafuoco dedicato ai giochi di una volta e lo Spazio Slurp per insegnare sin da subito ai bambini a mangiare in modo sano esatto, ogni anno noi aggiungiamo qualche pezzo e il pezzo che aggiungiamo quest'anno si chiama Spazio Slurp è dedicato alla cultura dell'alimentazione per i bambini qui in sala alimentazione quindi secondo me è importante quello che stiamo facendo e soprattutto è dedicato a Gino Girolamori che è stato un grande sindaco del Paese dei Balocchi Barbarossa riceverà la fascia di sindaco giovedì 18 agosto alle 21 prima però i bambini si potranno divertire grazie ad alcuni laboratori ludico creativi tra le attrazioni di questa edizione è anche il Ludobus dei Balocchi la serata di venerdì sarà invece dedicata alla sostenibilità ambientale anche grazie allo spettacolo di Max Paiella poi Spazio al progetto Wonder e alla musica dell'associazione Rewind sabato ancora giochi e laboratori ma anche letture e un'introduzione all'architettura grazie al centro studi Vitruviani la sera ancora spettacoli e musica domenica in programma anche giochi in inglese e concerti fino al gran finale con i fuochi d'artificio e lo spettacolo di chiusura quello non può mancare quello ormai è un must alle 23 della domenica Alcmeda Studio farà il suo spettacolo pirotecnico e musicale come sempre ormai degna conclusione Ed ora spazio alle commedie dialettali dell'arena BBC di Fano dove domani 5 agosto salirà sul palco la compagnia teatrale Artacan che si presenta nell'intervista realizzata da Paolo Pagnini Per la compagnia Artacan lo spettacolo è di venerdì 5 agosto siamo con la regista Cristina Cinotti il titolo però lo facciamo dire a lei perché con i dialetti non si scherza Allora il titolo è La ricreazione e ha cominciato tutta la via praticamente cercheremo di spiegare quello che è successo miliardi e miliardi di anni fa e perché adesso stanno succedendo queste cose e l'idea ci è venuta leggendo alcune poesie di Gabbianelli che è un poeta fanese e da lì diciamo è nata questa idea che abbiamo sviluppato che però non sto a spiegare perché altrimenti diciamo che cercheremo di dare delle spiegazioni del perché oggi succedono certe cose E concludiamo con lo sport e con il calcio perché questo pomeriggio è stato ufficializzato il girone di campionato di Serie C che affronterà la Vis Pesaro La Vis è stata inserita nell'abituale girone B che vi mostriamo in grafica Pesaresi in compagnia delle Marchiciane Ancona, della Pena Ripescata Fermana e della neopromossa Re Canatese Presenti le Emiliano Romagnole, Rimini, Cesena, Imolese, Reggiana e Fiorenzuola L'Umbra, Gubbio Le Toscane, Montevarchi, Carrarese, Pontedera, Lucchese, Siena e Sandonato Tavarnelle Le Sarde, Olbie e Torres La Ligure, Entella E la novità della Piemontese, Alessandria Nella giornata di domani verranno ufficializzati anche i calendari E prima di salutarvi vi illustriamo i programmi della serata di Rossini TV Avremo lo speciale dedicato al rinnovo del locale della parrucchieria Stile Capelli in onda alle 20.10 cui seguirà lo speciale realizzato in occasione della serata di premiazione del Festival Canoro del Gallo d'Oro la cinquantesima edizione che è stata presentata dalla nostra direttrice Emanuela Rossi questa sera alle 21.20 Indichiamo anche il nostro collega Daniele Sacchi che domattina terrà la rassegna stampa in diretta alle 7.20 non mancate Buongiorno Rossini con Daniele Sacchi che poi sarà replicata alle 8.20, alle 12.30, alle 14.00 e alle 18.00 di domani e soprattutto non vi dimenticate mai di scaricare la nostra app che vi permetterà di essere in contatto con Rossini TV in qualunque parte del mondo voi siate Grazie di tutto, vi auguriamo davvero una buona serata Grazie di tutto, vi auguriamo davvero una buona serata